Allora, nome, cognome e pre-impressione? Mi chiamo Milena Azzori, la mia pre-impressione è... mi stupisce tutto questo, perché è molto emozionante, la crescita. Ciao, come è andato il casting? Bene, è molto emozionante. Si sfatta di questa esperienza? Sì, molto, molto, mi ha dato tanto. Cosa porti a casa di nuovo? Non ho le parole adesso, le novità, la novità anche di apparire su una telecamera, la novità, per me questo è emozionante, non lo so, mi è piaciuto. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao.